E' appena terminato il secondo giro di consultazione al Senato davanti al Presidente Casellati. Ci sono elementi di novità, quali? Ma noi abbiamo continuato a proporre un contratto di governo scritto da Luigi Di Maio insieme a Matteo Salvini per un governo fatto da Movimento 5 Stelle e da Lega. Abbiamo anche detto che non possiamo vietare a nessuno di dare la fiducia a questo governo e a questo contratto di governo. Quindi potremmo sopportare un appoggio esterno da parte di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Rimanete quindi fermi sul punto. Contratto di governo solo con la Lega. Forza Italia è fuori. Ma che sia fuori io penso che lo sia già nelle cose naturali. La Lega di Salvini, o meglio Salvini, è di fronte a un bivio. Il fare un contratto di governo innovativo e rivoluzionario con il Movimento 5 Stelle, staccandosi da Berlusconi, oppure stare ancora con Berlusconi nella conservazione dello Stato precedente, molto negativo per i cittadini. Ieri la Lega ha aperto anche a un governo del Presidente e ha detto che naturalmente è un governo che non gli piacerebbe, diciamo, ma che essendo una forza responsabile potrebbero prenderlo in considerazione. Il Movimento cosa risponde su questo? Risponde che l'unico leader politico che può veramente garantire l'attuazione di un contratto di governo del cambiamento è Luigi Di Maio. Ma non perché vogliamo occupare una posizione di potere, ma perché 11 milioni di italiani hanno votato una forza politica che aveva un leader unico, quello che invece gli altri non avevano. E su questo punto il nodo premiership con Salvini ne avete parlato? È stato in qualche modo risolto? No, perché Salvini e il centrodestra vogliono scrivere quello che è più importante ancora della premiership, un contratto di governo con Luigi Di Maio e altri tre leader, che praticamente è la garanzia di un fallimento di un contratto di governo per un governo di cambiamento. Da dove si riparte da domani? È una risposta che la può dare esclusivamente la Presidente Casellati, dopo un'eventuale presa di posizione di Matteo Salvini. Forza di innovazione il Movimento 5 Stelle, Forza di conservazione Forza Italia, scelga lui. L'ipotesi di una trattativa con il PD è ancora in piedi, ancora aperta? Anche oggi loro si sono dichiarati minoranze e hanno detto che per voi il forno è chiuso, anzi che non è stato mai aperto. Ma innanzitutto rispettando l'incarico istituzionale che Mattarella ha dato alla Presidente del Senato Casellati, vogliamo aspettare di portare a conclusione questo. Ma come abbiamo sempre detto, i nostri interlocutori per la scrittura di un contratto di governo sono la Lega e il PD. Il PD lo stiamo ancora aspettando, deve fare una scelta se sedersi a questo tavolo nell'interesse degli italiani e scrivere un contratto. Ma le ripeto, aspettiamo la conclusione del mandato della Casellati.